Il 27 giugno scorso si è tenuta presso la direzione generale della Unipost SPA, l'Assemblea dei Soci, in presenza del presidente del Consiglio di Amministrazione Francesco Paduano, del consigliere Giuseppe Murino, del presidente del Collegio Sindacale Luca Sensini, nonché alla presenza di alcuni componenti della direzione generale, tra i quali Lea Di Nardo, Valentina Rizzo, Cirobello, Antonella Capo, Ivan Maiorano. Hanno preso la parola il presidente del CDA, Francesco Paduano, con la lettura della relazione sull'andamento della gestione e il presidente del Collegio Sindacale Luca Sensini. I soci rappresentanti, il 62-75% del capitale sociale, hanno deliberato all'unanimità tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. La relazione del presidente del Consiglio di Amministrazione, la relazione del presidente del Collegio Sindacale, l'approvazione del bilancio al 31-12-2018 e documenti allegati, destinazione del risultato economico e altre deliberazioni conseguenti. Continua dunque, con ottimo andamento, la mission di Uniposte con 20 agenzie presenti in tutta Italia, da nord a sud, e si annunciano le prossime aperture con Torino 3, Vimercate, Fiumicino, Foggia, Racale, Ischia, Augusta, Palmi, Capaccio Pestum, Casarano, Battipaglia, Roma, Genova e Lecce. Grazie.